E' arrivato il momento del Galateo nella storia, o meglio, storie di Galateo, o ancora di più, robe che sono successe nel passato, guardate attraverso la lente d'ingrandimento delle buone maniere. Sigla! Perché oggi si parla di cose un po' epiche, eh? Quella Indiana Jones! Indiana Jones, vabbè, sembra questa. Di cui lei non è degno di interpretare neanche l'alligatore. In effetti io come Harrison Ford probabilmente non sono del tutto credibile, anche perché credo sia alto 1,95 m. E' molto alto Harrison Ford. E' vero? Harrison Ford. Ma beh, cosa facciamo? Iniziamo subito con... No, no, no. Prima io farei un'anticipazione, poi ingolosiamo il pubblico, canzone, bla bla bla, eccetera. Sì, una segnalazione di traffico. C'è un camion che brucia sulla ovest, tangenziale ovest, direzione sud prima di Cusago. Quindi probabile poi il rallentamento. Se siete sulla tangenziale ovest, prima di Cusago uscite. Allora, Lapo, oggi di che cosa si parla in questa premiata ormai rinunciabile rubrica? Ma oggi le secrete di Via Olearo hanno prodotto in una riunione di redazione ormai storica, che passerà alla storia dalle decrittazioni, ovviamente, di Radio Popolare. Un'idea notevole, cioè quella di una comparazione, cioè di uno studio comparato tra alcuni accadimenti storici. Fra cui gli Orazzi e i Curiazzi, attenzione, la disfida di Barletta, tanta roba, e l'incidente di Olacrisi, cosiddetta di fascioda, meno nota delle prime due, ma perciò stesso assai raffinata come idea, no? Per cui, sappiamo tutti, ci ricordiamo mediamente degli Orazzi e dei Curiazzi, no? Ci ricordiamo, ovviamente, della disfida di Barletta. Allora, diciamo subito, invece, della crisi di fascioda, che fu una cosa, un piccolo scontro coloniale. Io interromperei una... Piccolo scontro coloniale... Tra... e poi mandiamo la canzone. Tra chi sarà? Tra chi sarà. Lo scoprirete dopo i Camelopard. Ah, già, che questa qua è quella canzone con poi, tipo, la risacca. Senti la risacca? No, io pensavo che fosse l'effetto diuretico per aiutare tutti i nostri ascoltatori un po' anziani. Però, anche quei, oppure anche i giovani che... Che la tengono? E quindi saltellano sul posto? Eh, più o meno, più o meno quella roba lì, andate tutti e... Ma cos'è? E che sia... e che vi auguro che sia Giallo Paglierino. Paglierino! Evviva! Eh, scusa Lapo. Scusa Lapo. Ma diciamo, meno male che siamo in area Galateo. Eh sì, certo. Non bisogna parlare di minzioni. Eh, lo so. Non siamo stati in area Galateo, spiegavo come capire se uno ha il diabete o no. Ecco, perfetto. Dicevamo, allora, questi tre episodi, che possono essere considerati come caratteristici di... la storia scritta dal Galateo. Cioè, quasi inconsapevolmente, soprattutto negli episodi più antiqui, perché non era stato ancora definito un codice del buone maniere come lo intendiamo oggi. Ma stavi partendo dal più recente. Stavo partendo dal più recente. In realtà, salta becco per collegarmi alla tua giusta indicazione sul Galateo. Perché in realtà, partendo proprio dagli Orazzi e Curiazzi, sappiamo che gli Orazzi e Curiazzi furono uno scontro, no? In cui dei campioni dovessero battersi tra di loro. In realtà la storia andò molto diversamente. Perché loro... la storia ce la racconta... la tradizione è una cosa di Galateo. Cioè, è una cosa cavalleresca. In realtà, se non mi ricordo male, il re di Alba Longa, nella realtà, fu squartato. Per cui è alla faccia del Galateo. Per cui ogni tanto, in effetti, si sa. Invece, nell'incidente di Fascioda, che appunto è una cosa un pochettino più chic, ci fu questo... No, è più chicchissima. Perché c'è SH e lo puoi dire... No, come lo diceva già l'avvocato. No, perché naturalmente la latinità è sempre la cosa più chic del mondo. Ma lo squartamento del re di Alba Longa e i suoi visceri, così, sparpagliati sul selciato, per quanto romano, è fatto di San Pietrini, io la vedo meno bene. Mentre invece, nello stesso tempo, qui si tratta di europei un pochettino più bien élevé. Abbiamo ovviamente degli francesi, c'era le Comandant Marchand, per cui già fa abbastanza amica male. Ma Marchand era anche Cochon. Era un po' gelé de bouillon, naturalmente. E poi abbiamo, nella disfida di Barlet, abbiamo Delamotte, ce lo ricordiamo, contro Ettore e Fieramosca. Contro Caprice de Dieu. Delamotte, fra l'altro famoso poi per i panettoni e le colombe. E la chiudiamo qui. Quello è Galup. Vabbè, però, invece, lì c'era le Comandant Marchand contro il, insomma, bene amato dagli inglesi, Lord Kitchener, che era un personaggio molto famoso perché si era battuto contro il Madi, che era questo un po' straccione sudanese. Ma come straccione? Eh, ma sì, perché era vestito molto male. Adesso, al di là della cosa anticolonialista, quello che voglia, però era vestito malissimo. Scusami, 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 centinaia di anni di vessazioni, crimini contro l'umanità e schiavismo, e ladrucino, sono state riassunte in, ma sì, quella cosa del colonialismo, che sappiamo. Era vestito malissimo. E comunque la cosa è che vestiva male. Vestiva male. La nostra amica può confermare, sicuramente qua presente. La compagna Serpi Canadia non si... Serpi Canadia mi spalleggia su questo. Anche il Comandant Marchand era vestito mica male, va detto. Cosa succede? Loro si incontrano praticamente, diciamo solo un minimo cappello. Gli inglesi avevano questa teoria di collegare ovviamente il Cairo con Città del Capo, no? C'era il famoso Cecil Rhodes, che era... Non è quello dei Juran Juran, che era un altro Rhodes, probabilmente. Che aveva collegato appunto il nord col sud. Invece i francesi volevano collegare Yusundur con un altro rapper di Djibouti, che non so. C'è praticamente la costa del Senegal con quella dell'Oceano Indiano, no? Per cui del corno d'Africa, dove invece c'erano gli italiani che gli rompevano le scatole. Per cui a un certo punto cosa fanno? Si incrociano a metà e si vedono l'Hour Kitchen con questo Comandant Marchand. Ovviamente l'Hour Kitchen era più ricco e nobile, per cui se la tirava un pochettino. Probabilmente aveva il cavallo anche leggermente più alto. Si incontrano e invece di spararsi addosso decidono di fare quello che poi in francese si chiamerà Entente Cordiale. Ovvero l'Intesa Cordiale. Cicchissimo questo. Gentleman Agreement. Il Gentleman Agreement è tecnicamente una cosa un po' diversa. Cioè è un accordo. Scusa un attimo, scusa, fermati un secondo. Questa è una finezza. Finezza. È una chicca. Sì. Allora, qual è la differenza? Questa è Tennica. Questa è Tennica, sì. È anche scienza, come avrebbe detto Crozza, praticamente. Però si intende che l'Entente Cordiale era un'Intesa proprio globale, strategica, diciamo di buon cuore e di buone maniere. Buon cuore mica tanto, perché si tratta di sfruttare gli africani, ovviamente. Però diciamo di buon cuore e fuori europei. Mentre invece il Gentleman's Agreement è proprio un accordo tecnico su un fatto specifico. Per cui l'Entente Cordiale è più ecumenica. Diciamo, è un po' la differenza tra Francesco e Ratzinger, se vogliamo fare un paragone ardito. Cioè, Francesco vuole un discorso più ampio, invece Ratzinger si accontentava, come dire, di mettere insieme i lefevriani. Ecco, e con ciò ho detto tutto. Sì, chiudiamola qua subito. Va bene. Mentre invece, scusami se ti interrompo, nella disfida di Barletta, invece, che cosa c'è? Abbiamo ancora il gelé de bouillon, il bouillon royale, le crepes valesca alla Sussupreme, che cercano di fare la lotta alla lasagna. Anzi, meglio, alle orecchiette, capito? Con le cime di rap. Cioè, abbiamo la cultura barese di Barletta contro, appunto, il caprice da Dio. Chi vince? Ovviamente noi. Allora, vediamo di capire. Nell'incidente di Fascioda, il Galateo avrebbe voluto che gente non si spartisse, popoli e terreni e risorse altrui. Oibo, perché mai? Purtroppo il Galateo sappiamo che a volte copre anche delle grandi nefandezze. Nell'incidente, in realtà, l'incidente di Fascioda, a quanto abbiamo capito, è stato il non plus ultra del Galateo applicato. La disfida di Barletta, invece? No, la disfida di Barletta, invece, si sono tirate... Allora, ascolto una roba. Si sono tirate le scamorzi. Aspetta, aspetta. Sembri Cassano nella sua peggiore interpretazione insieme ai Galeazzi. Allora, diamo un voto di congruità galatea alla disfida di Barletta, da 1 a 10. Molto basso, in realtà, perché pochi si ricordano che la disfida di Barletta fu vinta dagli italiani un po' con l'inganno. Pare che addirittura, appunto, Fieramosca, Prospero Colonna e tutti i nostri eroi, che poi sono diventati eroi nazionali, avessero vinto la disfida... Pensavo che poi sono diventate vie. Anche, anche, peraltro. Sono diventate vie perché hanno vinto tramite una serie di trucchi, un po' all'italien. Cioè, praticamente, le aste... Hanno fatto catenaccio? Eh, hanno fatto caten... esatto, hanno fatto catenaccio. Hanno fatto tutta una serie di porcherie, fra cui, per esempio, hanno messo gli spuntoni in mezzo all'erba. Oppure li avevano fatti avanzare e poi li avevano disarcionati in maniera poco corretta. Anche di guerra. Eh, sì. A lance non omologate dalla motorizzazione. Non omologate, dalla motorizzazione civile di via... com'è che si chiama? Cilea. Cilea. Cilea, cilea. Cilea, cilea. Si vede che non è mai uscito oltre la barriera del... Fu in via Capecelatro. Fu in via Capecelatro. Fu in via Capecelatro. Fu in via Capecelatro. Assi sono i romani, vincono e fanno fuori due romani, il terzo scappa e anche lì, un po' con... in maniera... capisci a me, riesce un pochettino a fregarli. Ma quante... ma quante cazzate dici? Sì, vinti minuti. Capisce, in effetti era romano. Ma come riesce a finire a fregarli? Cioè, scappa e gli fa... Scappa e... Allora, negli sca... nella dama c'è il giochino, quello che sei... quando sei sotto uno contro due, ti chiudi in un angolo e riesci a fargli la doppia mangiata. Sì. No, lui scappa all'isderena da soli, gli altri che lo inseguono, ma la cosa più bella è che è veramente poco elegante, forse possiamo... Adesso qualche ascoltatore romano ci dirà che siamo dei razzisti milanesi, ma sei... Lei, ci sociamo completamente... Noi, fin dall'inizio, e magari quell'altra a fianco, che è annicchilita dalle tue cazzate. Sì, sì, infatti. È noto che io uso il plurale maiestate. Naturalmente, per cui... Certo, se non la terza persona. Allora, sentiamo quello per cui ci nimichiamo agli amici romani. Gli amici romani, che è la cosa veramente cafona, che siccome la sorella dell'Orazio, cioè del romano sopravvissuto, era promessa a uno dei curiazzi, ovviamente, siccome il fratello gliela accoppa, lei si risente, si incazza leggermente, e lui, per far star zitte le giuste rimostranze della sorella, la accoppa. Cioè, voglio dire, la fa fuori, capito? È inaccettabile, ma zero galateo, anzi, in galera. Vedi che cafone, no? Chiudiamo questo spazio con il commento di Marco, che dice... Ma sapete che è rivaluto un poco l'apo? Ma solo un poco, eh?